Ben ritrovati a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, altra vittoria, iniziamo il girone di ritorno con una vittoria importante, una vittoria sofferta, una vittoria per 2-1 contro il Bologna. A segno Ante Rebic sul primo rigore procurato dal Milan dove Ibra è partito dal dischetto e Skorupski con una bella parata para rigore, poi Rebic freddissimo che ci ha caduto fin da subito, piazza sull'altro palo il gol dell'1-0. Raddoppia il Milan sempre su rigore con Chessy, Ibra lascia il dischetto a Frank Chessy che come sempre è molto glaciale, arriva sul dischetto e piazza 2-0 per il Milan. Finale un po' in sofferenza dove segna Andrea Poli, l'ex, però oggi vorrei soffermarmi su un'altra tematica e qui riprendo un ex allenatore del Milan. Molti dicono che non ha giocato bene, il Milan ha sofferto, il Milan non ha in qualche modo espresso il calcio, il bel calcio che esprimeva qualche mese fa. Può anche essere vero, può essere vero che però mancavano, c'erano tante assenze, stiamo recuperando adesso man mano i giocatori più importanti, i giocatori chiave. Abbiamo recuperato Ben Nasser che non è ancora al top, recupereremo Ciaranoglu, recupereremo spero presto anche Kier e poi il Milan tornerà man mano a giocare con i titolarissimi. Però c'è da dire una cosa, che alla fine, come sempre a questo livello qui, conta vincere, conta il risultato, tre punti, tre punti importanti che portano il Milan a 46 punti. A più 5 sull'Inter e che l'Inter proprio questa sera giocherà contro il Benevento, che speriamo che Pippo Enzaghi ci faccia un bel regalo. La Sampdoria gioca contro la Juventus, una partita che il Milan guarderà con attenzione perché il Milan in questo momento è a più 5 sull'Inter, a più 9 sulla Roma, a più 10 sull'Atalanta e a più 10 sulla Juventus. Sono partite, sono vittorie importanti perché in qualche modo tengono lontane le contendenti e in qualche modo incrementano il punteggio del Milan che sta cercando di rimanere il più in alto possibile. Come ho detto Massimiliano Allegri diceva sempre è importante il risultato, è importante sì la prestazione ma alla fine quello che conta, quello che si ricorderà alla fine nelle stagioni prossime. Sarà il risultato finale e il Milan continua a vincere, ha iniziato il girone di ritorno con un'altra vittoria, una vittoria importante che in questo momento porta il Milan a essere una delle squadre europee con più punti. Il Milan infatti ha totalizzato 20 partite giocate con ben 18 partite da imbattuto con 14 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con ben 41 gol fatti, quindi con 2 gol di media partita e 23 gol subiti con una differenza reti di 18. Staremo a vedere quello che succederà, cosa farà l'Inter, cosa farà la Roma, l'Atalanta, la Juve, il Napoli e la Lazio ma il Milan in questo momento grazie a questa vittoria ha dato un altro segnale al campionato. Il Milan c'è, ha dimenticato le due sconfitte contro l'Inter e l'Atalanta e punterà a essere una contendente reale, in qualche modo concreta per le zone della Champions League. Poi, tanto meglio, se vinceremo lo Scudetto allora sarà festa, sarà festa a Milano per una squadra di giovani che sotto la guida dei più esperti, Ibra, Kier e adesso Manzokic, cerca un'impresa, un'impresa impossibile. Però noi tifosi siamo veramente orgogliosi di questa squadra che lotta nonostante l'assenza, nonostante gli infortuni, nonostante il Covid, è prima in classifica per merito. E soprattutto ha sopperito, ha saputo sopperire in questi mesi alle tante, tante assenze. Quindi bravi ragazzi, alti 3 punti in saccoccia, 46 punti, tanta, tanta roba. Forza Milan, forza ragazzi, regalateci un sogno. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera. Ciao a tutti e buona serata.